Prosegue l'impegno della comunità riminese per l'emergenza della guerra in Ucraina. C'è chi come una famiglia di Spadarolo decide di accogliere attraverso la carita su una madre e i suoi quattro figli in fuga dal conflitto. E chi come i volontari di Operazione Colomba della Papa Giovanni XXIII raggiunge di persona le terre del conflitto per portare un contributo di solidarietà. A casa tutti, anche papà mio, nonna, anche amici, tutto. Mio marito è andato a guerra, figli è andato a scuola, hanno paura perché è sempre serena. I bambini piangono perché hanno paura, è andato a 18, è buio. La temperatura rimane sempre molto rigida e dall'altra parte si vedono arrivare anche diversi profughi. Hanno anche allentato un po' le misure di controllo, quindi hanno facilitato l'ingresso dei profughi per evitare di crearsi di code di chilometri e chilometri, quindi significa anche attese di giorni per l'ingresso verso l'Europa. Dalla polizia locale di Rimini un nuovo colpo allo spaccio a Borgomarina, sequestrata droga per un valore di 600 mila euro. Credo che questa operazione qui sia il più bel messaggio che noi possiamo mandare a quei cittadini che spesso vivono una quotidianità davvero complicata per quello che è la realtà di Borgomarina. A metà marzo debuttano i cantieri per superare i cosiddetti buchi neri della statale adriatica a Rimini. Pur con qualche disagio il piano del traffico regge. Fa invece discutere il progetto della variante dell'adriatica a Tragia Marina e Santa Giustina. La prospettiva dell'apertura dei cantieri provoca le reazioni di ambientalisti e coltivatori. Tutti ad oggi diamo un valore al prodotto italiano quando vengono distrutti centinaia di ettari di terra dove noi produciamo a norma di legge e con tutte le varie qualifiche per produrre, per il consumatore dare un prodotto sano e qui tutto viene distrutto. Non ci siamo proprio. Possono slargare la tolemaide e invece portano via il mangiare alla povera gente. Dopo due anni di stop per la pandemia Rimini rivive finalmente la tradizione di inizio primavera e si riaccendono di nuovo le focheracce.